Buonasera, benvenuti a questo terzo incontro del leggere Dante, che quest'anno appunto comporta anche la lettura di poeti contemporanei. Ogni poeta fonda la sua tradizione e abbiamo così pensato di offrire a tutti voi, a noi stessi, appunto la lettura di poeti che in qualche modo hanno un rapporto con Dante, di poeti contemporanei. E su questa strada abbiamo intenzione di continuare anche per quanto riguarda il prossimo anno. Questo è il terzo incontro e il terzo incontro abbiamo il piacere e l'onore di avere qui a Firenze, alla Pergola, Fabrizio Gifuni. Do quindi lettura della motivazione del premio Francesco Mazzoni conferito appunto a Fabrizio Gifuni. Allora, il Comitato Scientifico assegna il premio a Fabrizio Gifuni con la seguente motivazione. Nonostante l'apparente contraddizione con l'età anagrafica del premiato, questo riconoscimento a Fabrizio Gifuni è da intendersi a tutti gli effetti come un vero e proprio premio alla carriera. Non soltanto dunque un premio alla sua oggettiva e non comune statura di interprete, ma anche e soprattutto all'importanza delle sue scelte artistiche, alla coerenza del percorso, alla lucida capacità di preservare il proprio valore al riparo da facili scorciatoi e spicciole tentazioni di show business. Fabrizio Gifuni meritoriamente persegue da anni un itinerario di singole tappe in continuo crescendo, inanellando una dopo l'altra e con fatica una sorprendente rassegna di sfide vinte, sia che si tratti di spettacoli teatrali, sia che si avventuri negli insidiosi mari aperti del cinema e della televisione. E tutti avrete avuto modo di poterlo constatare. E se è vero che la sua grande attuale popolarità nasce in primo luogo da quella fresco capolavoro della meglio gioventù, con cui il nostro cinema trionfò a Cannes, ciò che più sorprende nella vita artistica di Gifuni è proprio la costanza con cui, ben prima di quel ruolo, anno dopo anno, egli si avvicinava con passo sicuro ad mai ora. Eccolo allora, 17 anni fa, già spiccare in scena nelle lettere di un Massimo Castri o nelle sue memorabili villeggiature goldoniane. Eccolo ancora consolidarsi sotto la guida di maestri come Terzopulos e Giancarlo Sepe. Eccolo infine giungere, anche con Giuseppe Bertolucci, al punto fermo di vibranti monografie teatrali su Pasolini, Pavese, Gadda e perfino Mozart. Tutti i spettacoli, questi ultimi, unanimemente acclamati, premiati, celebrati. Nel frattempo, questa giovane promessa mantenuta del teatro italiano si rivelava anche sul grande schermo. Passo dopo passo, da Così ridevano di Gianni Amelio, che è Beglione d'oro alla mostra di Venezia nel 1998, a ruoli sempre più inattesi, con registi come Magni, Chiesa, Bertolucci, Molaioli, niente meno, Ridley Scott. In pochissimi anni Gifuni è rivelazione europea al Festival di Berlino, Globo d'oro della stampa estera e premio De Sica nel 2002, Nastro d'Argento nel 2004, premio Flaiano, premio Ischia e premio Rodolfo Valentino nel 2005. Qui oggi viene premiato quindi come attore completo che con ciascuno dei suoi tanti ruoli ha sempre mostrato una nitida e appassionata sensibilità di interprete, quella stessa che gli ha fatto assolvere con raro tatto il compito di entrare nelle case di milioni di italiani, vestendo ora i panni di un De Gasperi, ora di un Paolo VI, se non più di recente e con clamorosi esiti dell'inquieto psichiatra Basaglia. Prego Gifuni. E' difficile parlare dopo aver ricevuto una, dopo aver ascoltato la motivazione di un premio come questo, è quasi imbarazzante. Per cui ripeterò inevitabilmente alcune cose che sono state dette molto meglio all'interno di questa motivazione. Diciamo la cosa che mi riempie di orgoglio in questo momento è che questo prestigioso riconoscimento non arrivi in maniera estemporanea dopo qualche anno di lavoro, come pure può accadere fortunatamente, felicemente, ma arriva dopo un percorso abbastanza lungo, per anticipare i temi della lettura, un po' nel mezzo del cammin di nostra vita. Oramai sono 18 anni che, da quando ho iniziato a lavorare, terminati gli studi in accademia, dove per me è un altro motivo di grande felicità ricevere questo premio in questo teatro. Ho avuto la possibilità, insieme ai miei compagni di classe, di frequentare un'accademia quasi a parte rispetto a quella che frequentavano gli altri nostri colleghi negli stessi anni. Perché il mio corso fu rilevato, dopo vent'anni di assenza, da Orazio Costa. Orazio Costa è stato, forse, anzi direi sicuramente, l'unico grande maestro che abbia avuto il teatro italiano per quello che riguarda lo spendere tutta un'intera esistenza nel tentativo di far capire un po' meglio cosa sia il lavoro dell'attore, in un paese in cui non è molto facile cercare di farlo comprendere. Avere avuto Orazio Costa, che abitava e abitato per tanti anni, fino alla fine della sua vita, in un appartamento qui sopra, aver avuto lui è stato per noi una fortuna immensa. Ce ne siamo resi conto, molti di noi se ne sono resi conto subito, altri se ne sono resi conto strada facendo. Abbiamo passato due anni del suo corso, per otto ore al giorno, sperimentando soltanto sull'Amleto, dove tutti gli allievi, uomini e donne, sperimentavano su tutti i ruoli. Le donne potevano fare Amleto, Polonio, Claudio, gli uomini potevano fare Gertrude, Ophelia e tutto il corso, in breve tempo, ha acquisito a memoria l'intero testo. Ecco, quella palestra è stata per noi insostituibile, quindi mi piace ricordarlo qui oggi in un momento così bello. Grazie a voi. Ringrazio Gifuni per queste belle parole e per il ricordo di Orazio Costa. La mia... Gifuni vi leggerà Dante e Pasolini. Il rapporto di Pasolini con Dante è stato molto intenso, sapete che ha scritto anche un libro intitolato La Divina Mimesis, che ha appunto come ipotesto La Divina Commedia. Ma il mio compito oggi è soltanto quello di cerimoniere, per cui per introdurre la lettura di Gifuni sarà qui fra noi, lo vedo dietro le quinte, il professor Riccardo Bruscagli. Grazie, buonasera. Do alle stampe oggi queste pagine come un documento, ma anche per fare dispetto ai miei nemici. Infatti, offrendo loro una ragione di più per disprezzarmi, offro loro una ragione di più per andare all'inferno. Queste righe scrisse Pierpaolo Pasolini in epigrafe al libretto intitolato La Divina Mimesis, a cui infine si decise ad affidare il documento, come egli dice, o il relitto potremmo dire noi, di un progetto su cui si era a lungo arrovellato. Niente meno che una riscrittura della Divina Commedia. Un'idea che lo accompagnava, o forse sarebbe meglio dire lo perseguitava, fino dalla fine degli anni Cinquanta. La Divina Mimesis uscì presso Inaudi nel novembre del 75. Postuma solo per pochi giorni al poeta, assassinato, come tutti ricordano, nella notte fra il primo e il due novembre di quell'anno, all'Idroscalo di Ostia. La coincidenza è fin troppo suggestiva e ci spingerebbe a dichiarare che la vita letteraria e poetica di Pierpaolo Pasolini si suggerlò nel nome di Dante. Limitiamoci a constatare che l'ultimo titolo curato dall'autore è una Mimesis, è una imitazione della Divina Commedia, due canti soli, peraltro, il primo e il secondo, rifatti in prosa, e chiusi alla fine da una sarcastica paginetta intitolata per una nota dell'editore, in cui Pasolini si divertì a sfidare d'anticipo i futuri curatori e filologi dei suoi scartafacci danteschi, i quali curatori e filologi in effetti hanno avuto oggi il loro filo da torcere, giacché una ben maggiore e più confusa varietà di scritti e di appunti rispetto al testo pubblicato nel 1975, è emersa a testimoniare della tenacia e della frustrazione ricorrente con cui Pasolini inseguì il suo sogno di rifare la commedia. Sogno, come abbiamo sentito, da cui uscì, secondo il parere dell'autore, niente più che un aborto spregevole, offerto provocatoriamente al disprezzo dei suoi nemici, offrendo loro una ragione di più per disprezzarmi, offro loro una ragione di più per andare all'inferno. D'altronde, il rapporto di Pasolini con Dante non si esaurisce davvero nel progetto più ambizioso e avvertito, quello appunto di una nuova divina commedia. La memoria dantesca è continua, pervasiva, nell'opera pasoliniana, in prosa e in poesia. Dalla rappresentazione della Roma di ragazzi di vita come città di dite, sono parole sue, rappresentata come una bolgia, un inferno di case in cui si cammina tra una folla greve di dannati, ai versi di Trasumanar e Organizzar, che fino dal titolo prelevano dalla lingua di Dante uno dei suoi fulminanti neologismi, Trasumanar appunto, fino a quella sorta di resa inanimata alle parole del modello che è il collage da Dante, intitolato proprio così, collage da Dante, con cui si apre dal vero una prosa romana degli anni 50-53. E neanche il cinema di Pasolini rimane indenne da questa epidemica memoria dantesca. Dal primo film a Cattone, che si apre citando in epigrafe i versi della morte di Bonconte, tutte le porti di costruire eterno per una lacrimetta che il mitoglie, fino alla ghiacciante salò Sodoma, che Pasolini concepì ispirandosi certo a Saad, ma a un Saad, secondo lui, a sua volta ispirato da Dante. Pasolini scrisse, se l'idea mi è venuta dalle 120 giornate di Sodoma, questa specie di sacra rappresentazione mostruosa al limite della lisibilità, mi sono accorto, tra l'altro, che Saad, scrivendo, pensava sicuramente a Dante. Così ho cominciato a ristrutturare il libro in tre bolge dantesche, quelle poi che, appunto nel film, dopo l'antinferno, saranno il girone delle manie, il girone della merda, il girone della morte. Ma la memoria dantesca in Pasolini non è pura intertestualità, citazione, ripresa, verbale. Dante costituisce per Pasolini un paradigma linguistico-letterario, l'emblema e insieme l'autorizzazione di una vera e propria poetica e teoria della letteratura. Questo lo si vede molto bene nel saggio di Pasolini dedicato a Dante, la volontà di Dante a essere poeta, che è del 64, che a sua volta si intreccia con uno degli scritti linguistici più belli di Pasolini, intervento sul discorso libero e indiretto del 65 e con la polemica che ne seguì. Cosa c'entra Dante col discorso libero indiretto o discorso rivissuto, che ogni buon studente liceale è abituato a legare indissolubilmente con la tecnica verghiana dell'impersonalità. Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva capelli rossi, aveva capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo. Pasolini nel suo intervento sull'indiretto libero parte dal libro, allora appena pubblicato in Italia, di Giulio Herzeg, Lo stile indiretto libero in italiano. E in quel libro si faceva questione di quando si sarebbero manifestati nella letteratura italiana i primi esempi di indiretto libero. E sulla scorta di un altro linguista, Werner Günther, proclamava triunfalmente essere l'indiretto libero non un'invenzione recente, ma ben più antica, ariostesca addirittura. Il Günther ne aveva trovato 60 esempi, non uno di più, non uno di meno, nell'Orlando furioso. Pasolini intervenne in questo dotto dibattito con una idea esplosiva. non è l'ariosto il primo autore a usare l'indiretto libero, è Dante. Ma in che senso Dante usa l'indiretto libero secondo Pasolini? Certo, il narratore della commedia non ammette e non ha bisogno di intromissioni altrui, di altri narratori. Afferma Pasolini, semmai ci fu un libro scritto in prima persona, questo è il libro di Dante. Il suo indiretto libero consiste, secondo Pasolini, nella citazione e contaminazione di altri mondi linguistici, quelli dei suoi personaggi. Significa, dice Pasolini, da parte di Dante, una immersione e una mimesi totale nella psicologia e nelle abitudini sociali dei suoi personaggi. E quindi una contaminazione fra la sua lingua e la loro. Pasolini fa due esempi. Il primo, di stile alto, cioè il linguaggio di Francesca, che gli dice è preso dai fumetti dell'epoca, cioè mima la riduzione provinciale e sentimentale, romantica, tra virgolette, dell'alta teoria dell'amor cortese. L'altro è un esempio di stile basso. È il linguaggio di Vanni Fucci, il ladro pistoiese di cui Pasolini offre una lettura straordinaria, quanto forse arbitraria. E gli scrive, la sua non è la lingua di un signore violento, né la lingua di un ladro plebeo. È la lingua di un signore che per violenza è divenuto ladro. Vanni Fucci si presenta, attraverso le sue proprie parole, quelle che Dante con stupendo e assoluto mimetismo gli attribuisce, come un uomo che protesta contro il mondo e le sue istituzioni, un vecchio Teddy Boy inferocito dalla contaminazione col mondo linguisticamente gergale che egli ha scelto. Ma quel gergo, secondo Pasolini, non rimane soltanto del personaggio nel personaggio. Quando Dante, rivivendo il discorso di Vanni Fucci, scrive, le mani alzò con ambedue le fiche, e poi fa dire al personaggio, togli Dio, cattella e squadro, l'espressione o scena si dimezza fra il personaggio e il narratore, che si lascia contaminare e invadere dalla lingua della sua creatura. Si può ben capire che a Cesare Segre questo intervento sull'indiretto libero non piacque affatto. Ne scaturì un'agra polemica che dette modo a Pasolini comunque di ribadire caparbiamente il suo punto di vista. Che lo si capisce fin troppo bene, non è il punto di vista di un critico o di un linguista, ma di uno scrittore. Pasolini proietta su Dante la sua accanita ricerca di una lingua di romanzo, ma anche di poesia, in cui l'io narrante si lasci invadere, contaminare, infettare dal gergo dei suoi personaggi, in cui l'ammimesi significhi una capacità autentica di uscire da sé, dalla propria cultura, dalla propria lingua, dal proprio corpo fisico borghese, si sarebbe tentati di dire, per entrare o farsi penetrare dalla lingua e dalla fisicità dei propri personaggi. dietro tutti i tentativi di riscrivere la commedia da parte di Pasolini c'è dunque evidentemente questa paternità dantesca. Pasolini fabbrica all'indietro in Dante la vera e propria auctoritas della sua scrittura, mimetica, contaminata, infetta, prulilingue. Stasera ascolteremo alcuni brani di questo ossessivo corpo a corpo di Pasolini col testo dantesco. Prima dalla Mortaccia, un testo cominciato già nel 59, variamente intitolato nel tempo La Mortaccia, l'Infernante, infine semplicemente l'Inferno, nel quale chi scende nei gironi infernali è Teresa, una prostituta, come sentiremo, guidata da una guida che è Dante Alighieri stesso, qui promosso al ruolo di Virginia. La chiave è violentamente parodica, la selva oscura è diventata il lurido paesaggio di una periferia degradata, il colle solatio a cui Dante nel primo canto della commedia cerca di ascendere è un montarozzo che sotto i ragazzi ci giocano al pallone, le tre belve diventano tre canacci lupi secchi allampanati e così via. Dagli appunti di Pasolini sappiamo come la discesa agli inferi doveva continuare. Dante e Teresa li avrebbero trovato fra l'altro Stalin al posto di Farinata, i due amanti suicidi di Centocelle al posto di Paolo e Francesca, Andreotti come Gerione, emblema della frode come si ricorderà, e Vilma Montesi, la protagonista del grande scandalo erotico politico degli anni 50 a cui si sarebbe chiesto chi è stato il colpevole. Ma niente di tutto ciò fu mai scritto. A metà degli anni 60 invece Pasolini tornò all'attacco di Dante con un progetto adesso intitolato Memorie Barbari che poi Frammenti Infernali e infine appunto la Divina Mimesis. Anche qui non si va oltre i primi due canti, ma adesso a scendere all'inferno è Pasolini stesso e la sua guida non è più Dante come della Mortaccia ma una assai riconoscibile controfigura di se stesso, del se stesso già un po' sfumato nel ricordo di almeno un decennio precedente. Così, come sentiremo, il Pasolini eretico dei suoi ultimi anni si fa guidare non senza perplessità dal Pasolini ortodosso, poeta civile e militante di qualche anno prima. In una catabasi non più violentemente arrabbiata come quella di Teresa ma più dolente e poco persuasa ingiallita Mimesi ormai di un progetto fallito. E in ultimo ascolteremo da trasumanare e organizzare del 71 i versi rivolti da Pasolini alla generazione sfortunata o generazione sfortunata i libri, i vecchi libri passarono sotto i tuoi occhi come oggetti di un vecchio nemico. È un'invettiva o forse un compianto sulla generazione degli anni Sessanta, quella che nella caparbia convinzione di portare avanti la lotta come si diceva allora e di essere chiamata a fare la rivoluzione si lasciò depredare semplicemente della cultura. Quella cultura che i suoi cattivi maestri invece mentre la incitavano all'intransigenza ideologica si tenevano ben cara. E qui tocchiamo forse le ragioni più vere dell'attaccamento pasoliniano a Dante. O generazione sfortunata è un'invettiva e insieme appunto un compianto ovvero un genere poetico dantesco se mai ve ne fu uno. Sì che l'affinità con la poesia della Lighieri non sta qui tanto in quel fulminante ossimoro del titolo trasumanare e organizzare che trascina nel politichese degli anni Sessanta lo stile sublime del primo canto del Paradiso che pure ascolteremo ma sta nella missione morale e politica di questi versi così ferocemente convinti che la poesia abbia ad essere contemporanea intrisa del proprio tempo e che il poeta ne debba essere il fustigatore e il profeta. Le profezie di Dante si sa furono tutte sbagliate e forse anche quelle di Pasolini quella generazione sfortunata dopo tutto l'abbiamo vista cambiare mantello in molti casi con stupefacente disinvoltura e fare non piccole fortune e l'omologazione tecnocratica profetizzata da Pasolini si è inverata a livelli assai meno sofisticati si è incarnata in una omologazione più modestamente televisiva essere smentiti dalla storia e al ribasso forse non è l'ultima affinità che lega Pasolini a Dante Alighieri grazie a Riccardo Bruscagli per questo suo intervento così denso così ricco di spunti di riflessione e adesso la voce e l'arte di Fabrizio Gifuni prego nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita hai quanto a dir qual era e cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinova la paura tant'è amara che poco più è morte ma per trattar del ben chi vi trovai dirò dell'altre cose che io vo scorte io non so ben ridir com'io ventrai tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai ma poi chi fui al piedi un colle giunto là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle allora fu la paura un poco queta che nel lago del cor m'era durata la notte chi passai con tanta pietà e come quei che con l'ena affannata uscito fuor del pelago alla riva si volge all'acqua perigliosa e guata così l'animo mio che ancora fuggiva si volse al retro a rimirarlo passo che non lasciò giammai persona viva il sonno mamma mia un sonno che proprio se la stava affassotto pora Teresa capirai con quella giornata che aveva passato ne aveva fatti pochi tempicci scese tutta sonno con l'ossa rotta imboccò il vicolo che ci si vedevano dietro tutte le lucette della ferrovia e più dietro quelle del quadraro e più dietro quelle di ciecafumo e più dietro quelle di cinecittà ma tutte sbattute perse perché era notte alta e da quando Marzano aveva preso Roma a mezzanotte da quelle bande c'era il coprifuoco passò sotto l'archi con tutti i freggi e le fregne di pietra del tempo dei papi andò oltre il fontanone addossato a quell'archi come un altare e imboccò il mandrione per una pista di fanga incassata sotto la muraglia dell'acquedotto felice alto che non si vedeva il cielo da una parte e dall'altra i prati coperti dallo sterco dei cavalli degli zingari e della loro zella affumicata perché più sotto tra le fratte sventrate passava il treno sotto la muraglia una addosso all'altra c'erano le baracche come tanti gallinari con le finestrine le porticelle di legno fraci con i detti di bandone sotto tutto lo sciroppo pasticciato dalle pedate dei clienti di quelle che battevano lì dentro dentro i tuguri insieme a quelle piccolette dei ragazzini che ci avevano giocato rognosi e ignudi durante il giorno schivando le sciacquate delle catinelle che le zoccole svuotavano fuori dalle porte senza manco guardare chi c'era e chi non c'era la catapecchia di Teresa era una delle ultime quasi laggiù in fondo poco prima dell'arco verso i depositi della coca cola poi che hai posato un poco il corpo lasso ripresi via per la piaggia diserta sicché il pie fermo sempre era il più basso ed ecco quasi al cominciare dell'erta una lonza leggera e presta molto che di pel macolato era coverta e non mi si partia dinnanzi al volto anzi impediva tanto il mio cammino chi fui per ritornar più volte volto tempera dal principio del mattino e il sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino mosse di prima quelle cose belle sicca bene sperar mera cagione di quella fiera alla gaetta pelle l'ora del tempo e la dolce stagione ma non si che paura non mi desse la vista che ma parve ed un leone questi parea che contra me venisse con la testa alta e con rabbiosa fame sì che parea che l'aere ne tremesse ed una lupa che di tutte brame sembiava carca nella sua magrezza e molte genti fe già viver grame questa mi porse tanto di gravezza con la paura cuscia di sua vista che io perdei la speranza dell'altezza e quale quei che volentieri acquista e giugne il tempo che perderlo face che in tutti i suoi pensier piagne e sa trista tal mi fece la bestia senza pace che venendomi incontro a poco a poco mi ripigneva là dove il soltace era quel montarozzo che sta sulla tiburtina dopo il forte prima di tiburtino terzo dove stava ad abitare peppe il folle era un montarozzo che sotto i ragazzi ci giocavano al pallone e sulle coste tutto pieno di puncicarelli e fratte e arrivati in pizzo laggiù si vede la niene tra i canneti e dall'altra parte pietralata e tutti intorno le borgate più lontane bianche come spuma al sole mammo ragazzi non ce ne stavano era notte alta non soffiava un fiato di vento non c'era neanche una luce si vede c'era un'interruzione alla centrale elettrica non una luce né sulla tiburtina né dietro la borgata là in fondo dove ci stavano di solito i fari e i riflettori tutto scuro morto e neanche una voce neanche quei piccoli rumori che si sentono la notte qualche cane che abbaia per i casali o i grilli le ranocchie niente niente e il montarozzo detto il monte del pecoraro lì davanti era alto che pareva una montagna coi puncicarelli e le fratte che ciondolavano nell'oscurità senza un filo di vita ma in dove trovo qua ma vaffanculo pensava Teresa che già parlava da sola con uno spagheggio che tremava camminò un po' lì nello spiazzo giallo verso la gobba del monte e si sarebbe messa a strillare se non avesse avuto paura che fosse peggio camminava camminava tutta col culo stretto pora creatura senza sapere dove andare quando ecco che daglie da dietro una gobba del monte si pararono con la bava alla bocca tre canacci lupi abbaiando da torcersi i polmoni secchi allampanati con le gote dritte sulle cosce spelate piene di rogna si affiondarono contro di lei abbaiando come se la volessero sbranare si fermarono lì a pochi metri guardandola e continuando a cioccare con quelle boccacce schifose girando intorno intorno come coatti chissà erano forse scappati da qualche casale alle messi d'oro dietro al monte lungo la niene o forse avevano sentito qualche ladro morto di fame adesso però ce l'avevano con Teresa e questa se ne stette lì ferma coi capelli dritti in testa il sangue che gli si era gelato strillare non poteva tanta era la paura le usciva come una lagna dalla strozza nemmeno quella poi piano piano facendo finta di niente sempre con i capelli dritti fece qualche passo verso il monte guardando i cani e come quelli pareva che ancora sbranarla e divorarsela viva non ci pensassero per il momento cominciò a salire ma non ce la faceva perché l'ascesa del monte era tutta una melma ci si poteva sciare e come puntava il piede per arrembarsi questo le scivolava e le tornava giù più in basso di prima stette lì un bel pezzo a cercare di salire su per quello scivolo di fanga nera e piangeva piangeva si insozzava tutta mentre chi rovinava in basso loco dinanzi agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco quando vidi costui nel gran diserto miserere di me gridai a lui qualche tu si o d'ombra o d'omo certo poi verso sinistra senti la voce che la chiamava che diceva si voltò con le mani a terra contro la fanga a pecoroni come si trovava e guardò da quella parte c'era un'ombra un'ombra che non si capiva bene chi era stava ferma e guardava verso di lei non riusciva a svagare si era un cliente di quelli che arrivano con la macchina a San Sebastiano non vogliono farsi riconoscere o perché sono sposati o perché sono viziosi oppure se si trattava invece di qualcuna di quelle persone importanti che si incontrano andando per gli uffici a fare le carte oppure un dottore de San Gallicano o magari un commissario di polizia ma come fu vicino quello là la prese per un braccio e aiutandola a sollevarsi le fece vieni allora Teresa gli venne una tremarella una soggezione che quasi si esturbava perché l'aveva riconosciuto muta come una cella guardandolo quasi piangendo per la timidezza gli andò appresso rispuosemi non uomo uomo già fui e li parenti miei furon lombardi mantuani per patria ambe due nacqui sub iulio ancor che fosse tardi e vissi a Roma sotto il buono augusto nel tempo degli dei falsi e bugiardi poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'anchise che venne di Troia poi che il superbio Ilion fu combusto ma tu perché ritorni a tanta noia perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia ors sei tu quel virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi in largo fiume rispuosi o lui con vergognosa fronte o degli altri poeti onore e lume vagliami il lungo studio e il grande amore che m'ha fatto cercarlo tuo volume tu sei lo mio maestro e il mio autore tu sei solo colui da cui io tolsi lo bello stilo che m'ha fatto onore vedi la bestia per cui io mi volsi aiutami da lei famoso saggio che la mi fa tremar le vene e i polsi a te convien tenere altro viaggio rispose poi che il lagrimar mi vide se vuoi campare desto loco selvaggio che questa bestia per la qual tu gride non lascia altrui passare per la sua via ma tanto lo impedisce che l'uccide e a natura si malvagia e ria che mai non empie la bramosa voglia e dopo il pasto ha più fame che pria molti sono gli animali a cui s'ammoglia e più saranno ancora infin che il veltro verrà che la farà morir con doglia questi non ci berà terra né peltro ma sapienza amore e virtute e sua nazione sarà tra feltro e feltro di quella umile italia fia salute per cui morì la vergine cammilla e urialo e turno e niso di ferute questi la caccerà per ogni villa finché l'avrà rimessa nello inferno la onde invidia prima di partilla un dio per lo tuo me penso e discerno che tu mi segui e io sarò tua guida e trarrotti di qui per loco eterno dove udirai le disperate strida vedrai gli antichi spiriti dolenti che alla seconda morte ciascun grida e vedrai color che son contenti nel fuoco perché speran di venire quando che sia alle beate genti alle quai poi se tu vorrai salire anima fia a ciò più di me degna con lei ti lascerò nel mio partire che quello imperador che la surregna per chi fui ribellante alla sua legge non vuol che in sua città per me si vegna in tutte parti impera e qui vi regge qui vi è la sua città e l'alto seggio o felice colui cui vi elegge e io a lui poeta io ti richeggio per quello dio che tu non conoscesti a ciò chi o fugga questo male e peggio che tu mi meni là dov'or dicesti si chioveggia la porta di san pietro e color cui tu fai cotanto mesti allora si mosse e io li tegni dietro sono settentrionale in Friuli è nata mia madre in Romagna mio padre vi si allungo a Bologna e in altre città e paesi della pianura padana e qui ebbe un altro sorriso sdentato benché nessun dente gli mancasse ma quando il sorriso bene o male finì di tirargli la bocca sull'ombra delle estremità infossate della chiostra giallastra dei denti un'aria di ingenua nobiltà gli invase tutto il volto sono nato sotto il fascismo benché fossi quasi ancora un ragazzo quando cadde e vissi a lungo a Roma dove dell'arresto il fascismo con altro nome continuava e sorrise sorrise ancora come un colpevole quasi volesse attenuare quello che aveva detto fui poeta aggiunse rapido quasi ora volesse dettare la sua lapide cantai la divisione nella coscienza di chi è fuggito dalla sua città distrutta e va verso una città che deve essere ancora costruita e nel dolore della distruzione misto alla speranza della fondazione esaurisce oscuramente il suo mandato e qui ebbe una goccia ancora di sorriso malizioso e doloroso nell'occhio incapace di sorridere quindi con aria amica giunse ma tu perché vuoi tornare indietro in mezzo a quella degradazione perché non continui a salire su di qua solo come sei stato destinato a essere e come sei lo guardai ah sei tu dissi allora ti riconosco ti riconosco e arrossì nel dirlo non per il vizio confessato ma per il fatto che ancora una volta mi confessavo ti ho molto amato mi sei sempre sembrato in fondo devo ammetterlo il più alto dei poeti del nostro tempo la loro vera guida effettivamente ho letto e riletto i tuoi volumi con grande soddisfazione mi valga ora per uscire da questa impasse risi male il lungo lavoro critico operato su di te nel segno senza prestigio sociale del narcisismo tu sei colui il cui stile è stato ragione per me di affermazione e di successo mi guardai intorno e delle tre bestie quella che mi fece più paura fu la lupa dalla mistica magrezza con la carne divorata dall'abiezione della carne fetida di merda e sperma ho bisogno del tuo aiuto balbettai insicuro come non lo ero stato mai in tutta la mia vita perché questa bestia può finire col togliermi la forza e la volontà di esprimermi e io non posso sopportare nemmeno l'idea di non essere più uno scrittore bisogna cambiare strada mi disse egli allora con la sua spaventata saggezza cercando di correggere la gravità di quanto diceva con i toni di una lingua mondana e il più possibile banalmente bisogna cambiare strada se una situazione sembra pericolosa o indegna con questa bestia la cui presenza ti fa lamentare non c'è da scherzare molto è una tenia e tu lo sai la ripetizione la ripetizione di un sentimento si fa ossessione e l'ossessione trasforma il sentimento sorrise prendendo in giro il proprio tono di dascalico poi finì la sua povera innocente bambina risata di conoscitore dello stile e continuò mantenendosi costantemente sul tono della lingua parlata ripeti all'infinito la parola sesso che senso avrà alla fine sesso 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 il mondo diventa oggetto di desiderio di sesso non è più mondo ma luogo di un solo sentimento questo sentimento si ripete e con sé ripete il mondo finché accumulandosi si annulla fattasi religione l'ossessione bisogna vedere con chi si sposa ma intanto la religione quella istituita ha fatto tutti gli sposalizi possibili e ancora ne farà qualcuno la sua voglia è senza fine ne avrà di maschi finché ne troverà uno che ce l'avrà così grosso che l'ammazzerà questo qui così ben dotato non sarà padrone di fabbriche o di catene di giornali non possiederà feudi nel sud ma le sue ricchezze saranno spirito aziendale capitale cartaceo e patria plurinazionale sarà lui la salvezza del mondo che non si rigenererà affatto con le morti assurdamente eroiche a cui è delegata l'umile gioventù di sempre i ragazzi di reggio o palermo gli adolescenti cubano o algerini grimau e lambrakis egli la caccerà nel più profondo dell'inferno da tutte le città dell'occidente dove ancora regna al servizio di coloro che lo precedono e di cui egli sarà storico erede per il tuo bene ora mi pare la cosa migliore condurti in un luogo che altro luogo non è che il mondo oltre io e te non andremo perché il mondo finisce col mondo quanto alle prospettive della speranza per cui si muore e ai progetti di colui che verrà io sono prematuro alle loro leggi non sono dunque autorizzato a condurti in quei due regni uno appunto sperato l'altro progettato non ho da scegliere dissi vengo con te egli mi guardò un istante esaminandomi timido e duro discorcio con l'occhio umido sopra lo zigomo consunto indi si mosse e io gli andai dietro fatto avea di la mane e di qua sera tal foce e quasi tutto era la bianco quello emisperio e l'altra parte nera quando Beatrice in sul sinistro fianco vidi rivolta e riguardarne il sole aguglia si non li s'affisse un quanco e si come secondo raggio suole uscir dal primo e risalire in suso pur come pellegrin che tornar vuole così dell'atto suo per gli occhi infuso nell'immagine mia il mio si fece e fissi gli occhi al sole oltre nostruso molto è licito là che qua non lece alla nostra virtù merced e loco fatto per proprio dell'umana specie io di un altro sole addorno beatrice tutta nelle terne rote fissa con gli occhi stava e io in lei le luci fisse di di la su rimote nel suo aspetto tal dentro mi fei qual si fe glauco nel gustar dell'erba che che il fe consorto in mar degli altri dei trasumanar significar per verba non si poria però l'esemplo basti a cui esperienza grazia serba si era sol di me quel che creasti novellamente amor che il cielo governi tu il sai che col tuo lume mi levasti quando la rota che tu sempiterni desiderato a sé mi fece atteso con l'armonia che temperi e discerni parvemi tanto all'or del cielo acceso della fiamma del sol che pioggia o fiume lago non fece alcun tanto disteso oh generazione sfortunata i libri i vecchi libri passarono sotto i tuoi occhi come oggetti di un vecchio nemico sentisti l'obbligo di non cedere davanti alla bellezza nata da ingiustizie dimenticate fosti in fondo votata ai buoni sentimenti da cui ti difendevi come dalla bellezza con l'odio razziale contro la passione venisti al mondo che è grande pure così semplice e vi trovasti chi rideva della tradizione e tu prendesti alla lettera tale ironia fintamente ribalda erigendo barriere giovanili contro la classe dominante del passato la gioventù passa presto o generazione sfortunata arriverai alla mezza età e poi alla vecchiaia senza aver goduto ciò che avevi diritto di godere e che non si gode senza ansia e umiltà e così capirai di aver servito il mondo contro cui con zelo portasti avanti la lotta era esso che voleva gettare discredito sopra la storia la sua era esso che voleva far piazza pulita del passato il suo o generazione sfortunata e tu obbedisti disobbedendo era quel mondo a chiedere ai suoi nuovi figli di aiutarlo a contraddirsi per continuare vi troverete vecchi senza l'amore per i libri e la vita perfetti abitanti di quel mondo rinnovato attraverso le sue reazioni e repressioni sì sì è vero ma soprattutto attraverso voi che vi siete ribellati proprio come esso voleva automa in quanto tutto non vi si riempirono gli occhi di lacrime contro un battistero con caporioni e garzoni intenti di stagione in stagione né lacrime aveste per un'ottava del cinquecento né lacrime intellettuali dovute alla pura ragione non conosceste o non riconosceste i tabernacoli degli antenati nelle sedi dei padri padroni dipinte da e tutte le altre sublimi cose non vi farà trasalire con quelle lacrime brucianti il verso di un anonimo poeta simbolista morto nel la lotta di classe vi cullò e vi impedì di piangere irrigiditi contro tutto ciò che non sapesse di buoni sentimenti e di aggressività disperata passaste una giovinezza e se eravate intellettuali non voleste dunque esserlo fino in fondo mentre questo era poi fra i tanti il vostro dovere e perché compiste questo tradimento per amore dell'operaio ma nessuno chieda a un operaio di non essere operaio fino in fondo gli operai non piansero davanti ai capolavori ma non perpetrarono tradimenti che portano al ricatto e quindi all'infelicità oh sfortunata generazione piangerai ma di lacrime senza vita perché forse non saprai neanche riandare a ciò che non avendo avuto non hai neanche perduto povera generazione calvinista come alle origini della borghesia fanciullescamente pragmatica puerilmente attiva tu hai cercato salvezza nell'organizzazione che non può altro produrre che altra organizzazione e hai passato i giorni della gioventù parlando il linguaggio della democrazia burocratica non uscendo mai dalla ripetizione delle formule che organizzar significar per verba non si poria ma per formule sì ti troverai a usare l'autorità paterna in balia del potere imparlabile che ti ha voluta contro il potere generazione sfortunata io invecchiando vidi le vostre teste piene di dolore dove vorticava un'idea confusa un'assoluta certezza una presunzione di eroi destinati a non morire o ragazzi sfortunati che avete visto a portata di mano una meravigliosa vittoria che non esisteva grazie a tutti grazie a tutti Grazie. Grazie. Bene, abbiamo sentito, avete sentito in altre circostanze leggere Dante, bene, meno bene, male, gridato, recitato, ma credo veramente che questa sia una serata memorabile perché Fabrizio Gifuni è arrivato a una quota molto difficilmente superabile, secondo me, ma credo anche secondo voi. Vi ricordo che il prossimo appuntamento, l'ultimo appuntamento che riguarda Dante e Thomas Tierney Elliott è per il 16 aprile prossimo. Grazie e buonasera.